I cani sognano? I cani sognano. Hanno potuto appurare che i cani sognano ma sono ancora riusciti a capire cosa sognano ma pensano che i cani sognano quello che è accaduto durante la giornata, quindi un riflesso delle giornate magari hanno litigato con un cane o hanno corso, hanno giocato, quindi pensano appunto che sognano ma anche perché vedete muovono le palpebre, fanno tutti i movimenti con le zampe, sembra che corrono si muovono tutti, no? E quindi diceva cosa fa? Sogna, si sogna però sicuramente non sono potuti ancora riusciti ad arrivare a capire che cosa sognano, certamente forse non sogneranno noi che abbiamo paura di cadere nel vuoto paura di volare o queste cose qui ma i nostri cani sognano ma ancora pensano che siano ancora sogni della giornata di quello che sta succedendo, sempre molto anche questi sogni semplici senza come le emozioni non sono così contorti quindi i nostri cani sogna, sì, ciao!